In questo periodo di crisi da coronavirus, le assicurazioni hanno un loro ruolo? Durante questa emergenza le imprese potevano tutelarsi con una polizia assicurativa? Ne parliamo tra qualche istante in questa puntata. Ben ritrovati per questa nuova puntata del ciclo Economia prima e dopo. Nella puntata di oggi abbiamo ospite Massimo Zito per Compagnia di Assicurazioni Generali e oltre all'amico ormai fedele Alberto Di Martino che mi accompagna in ogni trasmissione. Nella puntata di oggi parleremo un po' di quelli che sono gli aspetti legati al mondo dell'assicurazione sempre nell'ambito del tema del coronavirus. Ormai abbiamo riaperto da qualche settimana la maggior parte delle imprese, quelle che comunque hanno rispettato la direttiva e quindi sono in grado di poter accogliere i lavoratori nel rispetto della distanza di sicurezza e di conseguenza si è tutti attenti al dopo, quindi a questa ripartenza, a questa seconda fase che viene subito dopo il lockdown. Però voi sapete benissimo che noi nella nostra trasmissione esaminiamo anche gli aspetti che sono stati anteposti a qualsiasi evento in un ciclo economico. E rispetto a quello del coronavirus, la domanda che adesso facciamo trattando ovviamente un ambito particolare che è quello assicurativo e la rivolgiamo direttamente a Massimo Zito è proprio questa. Poteva essere fatta una prevenzione attraverso una polizia assicurativa su questo momento così particolare del coronavirus? Sicuramente, innanzitutto voglio ringraziarvi per l'invito che è stato molto gradito e per la vostra ospitalità. Una polizia assicurativa aiuta tantissimo a proteggersi da tutti questi che sono gli eventi che più di tutti, più di altri creano problematiche all'interno dell'azienda. Quindi pensare per tempo a quello che potrebbe avvenire un domani e riuscire a compensare economicamente i danni che un evento catastrofico come questo potrebbe portare è una cosa utilissima per le aziende. Grazie a Dio le polizze sono pensate proprio per questo e permettono di ricomprendere la maggior parte degli eventi che si possono verificare nella vita di un'azienda. Bene, ben trovato dottor Zito. Allora le faccio questa considerazione. Purtroppo in Italia, soprattutto per il settore auto, c'è un po' la convinzione che ci si debba guadagnare dalle assicurazioni e quindi c'è un po' questa contrapposizione tra assicurazione e assicurato. Noi qui parliamo come scopo di tutto il ciclo delle trasmissioni, invece dal punto di vista dell'imprenditore e in modo particolare dopo l'occasione del virus parliamo, come accennato dal collega Giuseppe Fischetti, di prevenzione. Lei pensa che le imprese siano pronte a fare questo tipo di ragionamento? Sono sensibili alla prevenzione o ragionano ancora in termini, speriamo che me la cavo? Ma guardi dottor Di Martino, sicuramente l'Italia non è uno dei paesi al mondo in cui la prevenzione assicurativa è più diffusa. Anzi, abbiamo tutto sommato poche aziende tutelate rispetto alla totalità, soprattutto se ci confrontiamo con altri paesi di matrice anglosassone o anche solo con la Germania, dove l'assicurazione dei rischi è molto più diffusa. C'è una speranza in tutto questo, che un evento che ha così gravemente impattato sulle nostre vite, sulle vite delle aziende, stia facendo nascere una sensibilità diversa, una sensibilità maggiore. Io personalmente ho già potuto rilevare il fatto che quando si parla con gli imprenditori oggi sono tutti molto più attenti e vogliono capire quali rischi possono essere più dannosi per l'azienda e quali soluzioni ci possono essere. Ecco, sono più disponibili a investire in questo tipo di prevenzione. rispetto al passato, quando effettivamente il pensiero comune, sotteso un po' a tutti i ragionamenti, era no, ma tanto a me non succederà nulla. Il speriamo che me la cavo che citava lei. Ecco, continuando su questa impostazione, noi parlando un po' con tutti gli operatori del settore, principalmente imprenditori e anche personaggi del mondo, quindi i cosiddetti stakeholder, che sono attinenti al mondo delle imprese, tutti sono concordi nel fatto che questo è un evento che ha cambiato tante cose. Il modo di pensare, il modo di interagire è un evento fortemente impattante. Traducendo questo stato psicologico in aspetti strettamente economici, noi pensiamo che cambierà anche il modo di fare business tra le persone in termini di ricercatezza sotto il profilo di interazione tra le persone della serie. Io sono un fornitore, mi rivolgerò al mio cliente e chiederò, oltre alla capacità finanziaria o alla disponibilità di acquisto di merce, a secondo di come è il nostro rapporto, se eroghiamo servizi o materie prime, superata questa fase, la prima domanda che faremo senz'altro al nostro interlocutore sarà, ma tu che capacità di resilienza hai? Cioè, come sei strutturato per resistere a eventi di una certa portata, come quello che abbiamo vissuto da poco. In questo contesto, il mondo assicurativo, crede che avrà un ruolo di primo piano? Beh, guardi, sicuramente il mondo assicurativo sta avendo una fase rinnovata di crescita, perché, ripeto, come già abbiamo potuto tutti verificare, l'attenzione verso queste tematiche è tanto aumentata. Io mi auguro che tutto questo possa essere in futuro portato avanti dalle aziende, quindi questa capacità di provare a guardare oltre il contingente, oltre quello che avviene oggi, e cercare di immaginare scenari futuri che possono essere positivi, ma che possono anche essere negativi. Questa sarà una capacità che probabilmente dovrà essere sviluppata nel mondo imprenditoriale, anche con l'aiuto sia degli assicuratori, sia dei consulenti d'impresa, che come compito hanno proprio quello di fare prevenzione. Dottor Zito, andando un po' più sul piano pratico, sicuramente abbiamo tutti un po' sorriso, leggendo le clausole di esclusione delle principali coperture assicurative, quelle del ormai famoso bang sonico della trasmutazione dell'atomo. Quindi mi viene da pensare, ma esiste la polizza antivirus, oppure dobbiamo individuare gli effetti nefasti, e quindi cercare singole coperture assicurative? Dottor Di Martino, la ringrazio per questa domanda, perché mi permette un po' anche di sfatare un mito. Le compagnie assicurative non si divertono ad escludere i rischi del tutto. Le compagnie assicurative sono molto attente a delineare quello che si vuole assicurare. Quindi le famose clausole scritte in piccolo, o più in generale le clausole di esclusione, devono essere valutate dal cliente, dall'imprenditore, insieme ai suoi consulenti, al suo assicuratore, per capire esattamente quali rischi assicurare e a quale costo. Vede, noi possiamo in una polizza assicurare qualunque cosa, questa polizza però tende ad avere un costo a volte non sostenibile o troppo elevato. Ed è qui che diventa importante il dialogo tra l'assicuratore, tra il consulente assicurativo e il consulente d'impresa e l'imprenditore stesso nel cercare di individuare quelli che sono i rischi più tipici di ogni attività e provare ad assicurarli. Faccio un esempio. Con l'emergenza Covid-19 si sono potute verificare in Italia la nascita di circa una cinquantina di soluzioni nuove, sia in termini di prodotti ad hoc per questa epidemia, sia in termini di clausole aggiuntive su polizze già esistenti. Quindi il mercato assicurativo non ha voluto escludere questo del tutto e tra l'altro le ricordo che ci sono tante polizze che già prevedono i danni per epidemia. Quello che diventa importante è il saper attivare questi tipi di clausole in quelle attività che più di altre possono essere soggette a queste tipologie di fermo. Mi spiego meglio. Un'attività commerciale chiusa completamente al pubblico, se avesse assicurato una diaria da chiusura per eventi straordinari, tra cui può rientrare tranquillamente, rientra anche quello del Covid-19, o almeno le compagnie maggiori l'hanno fatto rientrare, si tutela sicuramente di più. Ed è quella che è più esposta, perché invece tante altre attività produttive o non si sono mai fermate o hanno potuto lavorare a ranghi ridotti, quindi in questo caso una diaria da chiusura sarebbe stata meno opportuna e probabilmente, visti i costi anche operativi di un'azienda produttrice, la chiusura totale non sarebbe mai potuta essere compensata da una diaria di dimensioni sicuramente inferiori. Domanda provocatoria a questo punto. Crede che un elemento di questo tipo, cioè una polizza, un'assicurativa in aggiunta, o una clausola, secondo dei casi, adesso non voglio entrare nel dettaglio specifico, poteva essere oggetto di valutazione da parte delle tante task force che noi abbiamo in questo momento, perché il rischio di lockdown è elevato. Quindi io comunque non so come andrà a finire, perché realmente siamo in questa dimensione, e quindi non so fino a che punto lo Stato dovrà garantire un supporto, perché se le cose dovessero andare bene, quindi abbiamo degli aiuti che probabilmente serviranno per due mesi, per tre mesi, ma se dovessimo tornare indietro la cosa si complica e quindi significa trovare sempre più risorse e quindi doversi dar da fare. Fare prevenzione. Quindi ci poteva dire all'interno della task force, così come dovete mettere la mascherina, come dovete rispettare la distanza di sicurezza, se dovessimo andare indietro mettiamo a disposizione un ristorno per un'eventuale aggiunta di polizza assicurativa? Guardi, dottor Fischetti, lei mi fa una domanda che purtroppo mi tocca sul vivo, nel senso che parlando con tanti clienti che seguo, o anche con clienti potenziali, se è vero, come abbiamo detto prima, che la propensione ad assicurarsi è diventata maggiore, se è vero che la percezione del rischio, la paura di poter avere dei danni da questo tipo di epidemia è sicuramente aumentato, d'altra parte nel momento in cui si prova a costruire una soluzione assicurativa, nel momento in cui si propone una polizza, il problema più grosso per chi ha già subito danni economici è quello di trovare le risorse economiche per assicurarsi. Quindi la previsione di un'agevolazione che possa essere fiscale, piuttosto che un indennizzo diretto, piuttosto che un rimborso di premi assicurativi, come in parte avveniva soprattutto in passato in agricoltura, sarebbe di grande aiuto, perché altrimenti anche l'imprenditore più accorto, non avendo risorse e dovendo continuare a pagare fornitori e dipendenti, se non ha risorse aggiuntive, continua a non potersi assicurare dei rischi e purtroppo non sappiamo quanto ancora potrà durare questo stato di emergenza, perché è vero che con la fase 2 stiamo tutti quanti provando a ripartire, ma è anche vero che da più parti, notizie anche di questi giorni, comincia già una seconda ondata di ritorno, o anche peggio, l'abbiamo visto a Hong Kong, l'abbiamo visto nella virtuosissima Corea del Sud, che sta avendo nuovamente problemi di contagio, quindi non sapendo quanto durerà questa emergenza, diventa importantissimo tutelarsi da questi rischi, ma sarebbe opportuno, da parte almeno di uno dei tanti esperti in questo momento al lavoro nelle varie task force, prevedere un incentivo economico per l'assicurazione di questi rischi. Bene, io però vorrei riprendere, sottolineare un suo passaggio, cioè quello della gestione dei rischi. Attenzione a non fare il discorso all'opposto, cioè non è che noi assicurandoci abbiamo risolto tutti i possibili problemi della nostra azienda. L'assicurazione rappresenta uno dei modi per ridurre o mitigare il rischio, ma trasferendolo sostanza, tecnicamente trasferendolo. In realtà la misura principale sarebbe proprio quella di analizzare, identificare, pesare i rischi a cui io vado incontro in funzione degli obiettivi che mi sono dato, e cercare appunto di ridurre o la probabilità o mitigare il danno che un eventuale incidente, chiamiamolo così, può causarci. Per questo riprendo la scritta che vedete sulla lavagna Pro Securitate et Risico Super Merchem, che è la clausola della famosa quietanza grossetana del 22 aprile 1329, che risulta essere la prima polizza assicurativa al mondo. La cosa interessante è che non è nata prima una compagnia assicuratrice che ha proposto la copertura, ma è stata una richiesta da parte dei mercanti, i quali mercanti hanno prima di inventarsi l'assicurazione cercato di ridurre il rischio come distribuendo il carico su più navi e facendo compiere a queste navi rotte diverse, in maniera tale che diminuisse la probabilità di perdere tutto il carico. Quindi ho fatto una premessa un po' lunga, ma la domanda che le faccio è c'è questa propensione alla gestione del rischio, considerando che l'imprenditore è uno che rischia per definizione. Guardi, dottor Di Martino, lei con questa domanda mette in luce quella che è la sua competenza. Assolutamente sì, non può essere assicurato tutto, accennavo anch'io prima la stessa cosa. Il problema oggi diventa di tipo diverso, di natura diversa. L'imprenditore in un mondo così complesso non può essere esperto di ogni aspetto della vita aziendale, ha bisogno di essere affiancato da consulenti. Questo vale per le questioni fiscali, vale per le questioni di gestione caratteristica dell'impresa e vale anche per la prevenzione dei rischi. L'assicuratore, se potesse trovare all'interno dell'azienda un interlocutore preparato in grado insieme a lui e insieme all'imprenditore di valutare quali sono i rischi troppo grossi per poter essere affrontati da solo dall'impresa e quali invece sono quelli che possono tranquillamente essere corsi dall'impresa senza avere nessun tipo di danno economico eccessivo, ecco nel mezzo troveremmo anche lo spazio per individuare quei rischi che creano un danno economico consistente ma che possono essere assicurati in maniera agevole e non troppo costosa con una polizza assicurativa. Quindi sì, sicuramente questo tipo di valutazione va fatta ma è necessario che ci si parli tra professionisti. Il mercato italiano ancora non ha una maturità del genere all'interno delle imprese quindi se l'impresa al suo interno non è strutturata con una professionalità ad hoc con un risk manager come si chiama normalmente è opportuno che si faccia affiancare da una struttura specializzata. Un'ultima domanda prima di lasciarla ovviamente ringraziandola del tempo che ci ha dedicato e di come ci ha aiutato a capire un mondo altrettanto complesso come quello assicurativo. Che consiglio si sente di dare oggi a un imprenditore ammettendo che oggi sia l'anno zero si riparte senza commettere gli errori di prima e che cosa può fare per ripartire quindi col piede giusto? Ma guardi io richiamo alla mente a me stesso ma a tutti quelli che ci ascoltano una caratteristica del cervello umano il cervello umano non può mantenere a lungo tutte le informazioni e per sua natura gli studi psicologici l'hanno evidenziato tende a scartare tutto ciò che è negativo quindi nel tempo la percezione oggi vivissima che gli imprenditori hanno di quello che è successo verrà persa sarà importante invece avere dei consulenti che aiutino coadiuvino stiano a fianco all'imprenditore nel momento in cui dovrà in qualche maniera riuscire a capire qual è il futuro della sua impresa dove può andare a cogliere le opportunità ma anche dove può andare a individuare quelli che sono i rischi che poi vanificherebbero renderebbero inutili tutti gli sforzi produttivi basta poco in un'azienda per perdere tutto tutti i giorni vediamo anzi vedevamo perché con il lockdown abbiamo avuto purtroppo le aziende gran parte delle aziende chiuse basta un fiammifero basta una scintilla basta una disattenzione nella gestione della sicurezza per avere poi danni alle strutture ai macchinari alle merci o anche al personale molto grossi che rischiano di compromettere del tutto la vita di un'azienda quindi ripartire con un occhio a quello che è la crescita dell'azienda ma con un altro occhio guardare anche alla tutela dei rischi più importanti si conclude a questo punto anche la puntata di oggi abbiamo parlato degli aspetti che toccano un ambito particolare che è quello del settore assicurativo e speriamo di essere stati di aiuto per comprendere ancora meglio come è possibile fare prevenzione utilizzando anche qualche polizza assicurativa vi do un saluto e un arrivederci alla prossima puntata un affettuoso saluto anche da parte mia e continuate a scriverci la casella di post elettronica è contatti chiocciola vagsrls.it a Grazie a tutti. Grazie a tutti.